Oh, e tu? Io quasi, quasi questo lo voto Aspetta, il nome qual'è? Qual'è il no... È vera! Qual'è il nome? Questo... Ane... ...ca... ...cap... Non si capisce... Bacagliare... Bacagliabo... ...when I'm alone... ...and so I'm tired... Mettetevi le armi... ...ganariamoci sparano... Eh, sicuro come loro... Non me ne frega niente... Eh, ma perché mi togli l'arma? L'arma deve stare in mano... Ok... Eh, c'è che sa neanche cosa... ...sto combino... È impossibile che muovo con le M4... Spero neanche bisogna che la seguiamo tutta la strada... Eh? Di là c'è la base militare, si vede... ...sinistra... Vabbè... Ma anche a sinistra c'era la torre militare... ...così grande... Eh, che altro? Mi dà come l'impressione che le distanze si siano ridotte... Infatti... Di qua... ...lark... Di qua... C'è c'è? Di qua... Perchè? Dove se niente non c'è? Sì... Beh, da non andare da solo... Beh, perchè ci dobbiamo dividere? Con il rischio di spararci... Andiamo da dark... Va, che tanto è più vicino alla... Lì dovrebbe essere la zona con le caserne... Sì... A destra infatti non c'è nulla... Solo a sinistra c'erano le basse... Ok... Allora... Ognuno... Deve entrare per primo, mi pare... Assolutamente... Vabbè, ho capito... Sacrificate l'anello più forte... Destra, destra... Che sta andando? Di là, sta la cosa del carcere... Qui c'è una... Una caserna... Ah... Non l'avevo visto... Che brutto le basi militari... Anzi, altro che... Perchè c'è il cancello aperto? Qui si lo so... Eh, secondo te... C'è entrato qualcuno? Eh, Darky, coprimi mentre... Oh cacchio! Che c'è? C'è una miseria... Adesso? Vado al cuore... Copritemi che devo... Che devo bere... Oh no, è chiuso... Se è chiuso è peggio... Perchè vuol dire che stanno arrivando... Hai caricato tu? Sì... E sto caricando... Ma è inutile che carichi nel base... Devi pensarci prima... Nooo... È sbaglio... Per aprire le porte... Si carica... Si carica da su... Chiudi la porta... Mh... Zaino... Che colore? Arancio... Arancio... La serie... Sparatemi malamente... Colpi di doppietto in bagno eh? Sei! Cosa hai trovato? L'altro... Eh? Che hai trovato? No, già ok... Sempre quello che avevo prima... Però è oggi stato... Scarpe... Ah... Scarpe da soldato... Questo è buono... Ecco pure le scarpe da soldato... Buonissimi... Sei... Passa... Oh ragazzi... Trovate i colpi per la M4... Sapete a chi darvi... Oh... Io... A me... Ecco... Lo sapere... Avete ruttato tutto? Che fiatone che hai... Mh... Mh... Hai visto? Togliti Dark! Adò... Con lo zombie mi ha fatto... Mi ha fatto spaventare... Prima... Ma lì non si entra... Aspetta... No... Non si entra... Da lì qui li possiamo anche lasciar perdere... Di qua... Di qua... Di qua... Di qua... Dove sta Dark... Mh... Ok... Mi raccomando... Armi in mano... Non sparate... Fatevi sparare... E poi possiamo sparare... E poi quando morite... Possete sparare... Chiuso... Chiuso? Mh... Sembra... Vuol dire che stanno camperando dentro... Ma Darky... Stai facendo il moonwalk apposta... Oppure... Lug... Lug... Camperare la porta? Si... Aspetta... Ma non è... Non è... Aspetta... È... Questione di vita o di morte... Ok... E se... Però chiudite la porta del carcere... Altrimenti... Non riesce... Di doppietta... Darky... Dopo li prendo... Ti serve i giubbottanti proiettili? Eh... C'ho già il giacchetto... Non so se va... Scarpe... Militari rosse? No... Si abbinano con tutto il tuo rosso... Ah vabbè... C'è stato lo zaino rosso e basco... Oh beh... Cosa avete trovato? Alla... Cibo... Zaino... Rosso... Il giacchetto militare ha detto che non ti serve... Qui ci sono scarpe militari... Aspetta... Dipende che giacchetto militare... Aspetta che controllo... Antiproiettili... Vi serve... Aspetta... Devo salire io su... Non ti so dire... Sì sì... Eh... Tipo quello che ho io... Con le tasche... Guarda... Quello che ho addosso io... Ah sì... Caricatore FNX vi serve? Caricatore FNX... Sì... FNX serve a Dark... Eh... Sì... Dammelo... Oppure se non c'è la FNX... Che cambio... Ah no... Non è FNX... È 22 Mag... Allora no... Quali adesso per cambiarmi il giubbotto? Vabbè... Vai... Venti colpi M4... Voi li trovate... Sì... Voi me li dai... Cacchio sta? Ah ecco... Aspetta che non è che possa camperare benissimo la... La porta... Eh... Camper io... Camper io... Oh... Non me lo fa prendere... Eh no... E mi carica... Perché mi carica? Si ma è... Per la pistola... Oh raga... Non me lo fa prendere... C'è uno di voi che riesce a prenderlo? Eh... Mi sa perché è sul letto... Prendilo con la rotellina... Eh... Non ce la fa proprio... E allora mi sa che ti conviene lasciar perdere... È bugata... Lascialo lì... No fa schifo come arma... Ok posso scendere... Ti ho buttato i colpi delle M4 a terra... Oh... Sì... Grazie... Ok... Vai... Qui c'è qualcosa... Cibo... Fermi... Allora... Aspetta... Vado io... Vado io... Vai niente... No... Stavo guardando gli hangar... Per vedere se c'è gente... Tanto... Non dobbiamo attraversare la... Sono addormentati... Iniziamo perché in un video... Non sentono solo il rumore... Eh vabbè... Ma lì in quel film sono... Sono addormentati... Ah qui c'è una... Un piccolo hangar... Io ho sempre paura di queste torre... Perchè? Eh se c'è qualche cecchino... Eh lo so... Ma comunque è rischioso anche per... Qua hanno lootato già... No non hanno lootato... È tutto qui... Sì... C'è un M4... Dove? Qua in questa caserma... È un caricatore dell'M4... Ah ci sono le munizioni... Ma hanno lootato perché era aperto... Non lo vuoi tu Revit con l'M4? No lo so... Volevo imparare... Dove state? Oh... Nella... Cosa verde? Cosa verde piccolina... Quella hangar piccolina... Perché non lo prendi tu l'M4... Voglio solo un pezzo dell'M4... Prendi... Controllalo... Tanto è quello base... Perché non lo prendi tu Dark? Non mi piace... Troppo sparacchioso... Ok... Ho preso... Ah lì c'è il caricatore dell'M4... Quello che ti stavo dicendo... Ok... Tanto non mi serve... Devo solo splittare... Splitta... Ok... Butta sta cagata... Tanto fa pure schifo... Venite dietro dove c'è il serbatoio... Poi quando avete fatto... Aspetta... Io ho quasi finito... Controllo... Non c'è più niente... Andiamo... Io il primo l'ho già visto... Il primo l'ho già visto... Ok... Allora andiamo direttamente al secondo... Vai entra e controlla... Tanto... Giro... Non lo so... Allora... Le tende le lasciamo perdere? Si... Io direi di si... Lasciamo la per la vicenda... Non c'è niente... No non c'è... Oh cacchio... Sono io... Scusa... Non credevo fossi già entrato... Allora... Facciamo una cosa... Aspetta... Devo attraversare dall'altro lato... Però prima passiamo dentro il boss... Aspetta aspetta... Fammi dare un'occhiattina... Vicino... Mento... Almeno quello ve lo posso dire... Cacchio... C'ho il cuore a mille... Scusa... Non credevo fossi già entrato... Sei stato veloce... E ti ho detto... Che non c'era niente... L'ho detto... Eh... Ma nel momento in cui l'hai detto... Io ho aperto... Stavo entrando... Ok dai... No no... L'ho detto prima... Vabbè dai... Non fa niente... Andiamo... Dall'altro lato... Stiamo attraversando la... Putate un occhio sulle tende... Casalmente qualcuno... Pignolo... Andasse a controllare... Si... Stavo controllando... Mamma mia... Ma che cacchie sono queste cose... Sono le luci per... Per gli aerei... Ah... Per illuminare la pista... Per segnare la pista... E io di solito sapevo che stavano sulla pista... Non fuori dalla... Eh vabbè stanno anche ai confini... Anche un po' prima... Qua è buono... Uno si mette qua... Pomp pomm pomm... A quello servono i bunker... A seconda dei casi ci troviamo anche armi dentro... Andiamo... Almeno controlliamo solo... Forse ancora il lutto non li hanno fatti bene nelle tende... Qui c'è... Ci sono i fuori... E mi sta buttando fuori... Anche a me non ci posso credere... No... Cambiamo server... Eh... Sono problemi... Perché? Con gara dentro un aeroporto... Gigante... eh vabbè gigante ma è da suicidio che sfiga guarda presca l'insalata ovviamente si un altro sulla pista la da qui non si capisce benissimo quello dei bagni sta arrivando fai tu? eh io è arrivato però mi ha colpito non fa niente ti ha fatto la bua? oh vai culo eccezionale ah ho trovato un pezzo per la m4 pezzo per la m4 e colpi per la m4 qui c'è una batteria prendi la fini perchè i mirini reddott usano le batterie figo che cortello dove l'è in vizio questo cartello combat knife davanti all'm4 si mette no non si mette forse no non è non è la baionetta dell'm4 ci si oh anche qui non è male mettersi per cecchinare è che è un po' scontato come a posto aspetta fai provare me lo prende in mano aspettate 5 prova prova fico guardate eh ma deve fare schifo come oh ma credo stia arrivando uno zombie provalo provalo toliti toliti in faccia in faccia è svenuto però vuole un colpo viene sempre un colpo anche oh uno dei mi vai a me allontanare ah l'ha ammazzato si due colpi l'ha ammazzato la testa si quale quale è il cortello quello di rambo l'avete visto il rambo eh no quello di rambo è più simile a un macete guarda che piccolino quello vieni a vedere come è fatto vieni a vedere come è fatto si ok che è la lama fighissima si quello te lo concedo ma il coltello di rambo è due volte più grande è un macete quello che c'è a lui vabbè la dimensione cambiano però da un lato è seghettato la tendina la tendina il coso come cavolo si chiama dormitori dormitori una figata sto coltello no no me lo tengo proprio occupa due slot però non fa niente casco o no no non c'è niente questo e questo si zombie eh la fai da solo? si tieni stavi per colpirmi lo sai come si chiama qua? dove sei? non ti vedo no sono dentro sono dentro tieni rambo io intanto non la uso l'accetta tienila ce l'ho buttata no ma ne pieno di munizioni che mi si è riempito lo zone su procurami il coso il kit di pulizia siamo abbiamo attraversato siamo all'altra zona ok aspettatemi che quella è una caserma si ah è vero è quella dove ci avevano sparato l'altra volta aspetta con il pistoletto però ho controllato le finestre vuoto non l'hanno snobbata tieni siamo andati nel posto dove ci hanno sparato l'altra volta sì l'ho vista se no io fuori ok Lara camper all'ingresso qui di SKS è qua nella prima stanza dark anche qua c'è un SKS zeno verde quanto verde tanto colpi SKS colpi SKS per chi li vuole qui c'è lo zaino grande verde non so se prenderlo non c'è l'aio ancora pazienza tanto non ho mille mille milla cose possiamo andare? sì 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 ok passiamo da dietro eh togli ti cacchio oppure dark un nome fighissimo in cerca della morte questa ci sta però non l'abbiamo trovata peccato qui c'è uno zombao lascialo là certo non disturbare lo zombi che dorme eh uno ti ha visto e ti sta seguendo dark che maleducato io lo voglio lasciare là aspetta oh che fai? scappi scappi non cadi a terra scappi attento rischiamo di ammazzarci ok questo credo sia morto l'ho disintegrato anche questo l'ho disintegrato con un colpo di macete e ci riesci cosa c'è su? sto controllando stack divali maglietto non stiamo più trovando colpi di mosin accidenti è vero pinze ora che ce l'ho io l'arma non troviamo i colpi ma è assurdo meglio meglio che togli l'arma guardi a qualcun altro pregati a scendo pronto? ok andiamo adesso mi manca solo i tre piedi i piedi per dove è stato? stiamo andando alla prigione passando da dietro sempre ti ho visto mi manca solo il tre piedi per le mie quattro tre piedi e il silenziatore pure se non serve un quattro ah cazzo uno ci ha visto dentro dentro di corsa oh hai fatto un lag enorme merda non sono l'unico che sta lagando entra no lag è server aiuto aiuto non li posso colpire perché non vedo dove siete voi sono al piano di sopra scappa scappa sali 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 finché non risolve il lag cioè mai eh vabbè che cazzo dobbiamo fare stavo per colpire i sini mi è perso a lui signora ti dà una calmata c'è la bussola signora grande la prendo mi fa passare ah ti dovevo dare lo snap loader per la doppietta non c'è ne ho 70 eh vabbè ma quanti zodi abbiamo attirato molti infatti è strano 4-5 qui c'è la bussola lo so la prendo io sposta di che la prendo stavo dando roba dark finalmente due fatti bravo grande tre fatti vuoi una mano quindi lo ecco lo scappa si trova lo zaino proprio lui eccezionale eh vabbè ma tu ce l'hai già lo zaino lo diamo no no vabbè ma questo qua lo butto ma frego un cacchio no non fare il miserabile a parte il fatto dove cazzo sei dai seriamo non mi dire che sei andato avanti da solo anche a me serve io ho 30 posti ginetto e che io quello da 30 ho preso quello da militor eh infatti ho fatto di quello da 35 appunto la ti ho dato l'm4 dalle mie parti dalle mie parti dici sei una tanalla miserabile vabbè quella è una città di come si dice di dalla quelli che vendono come si dice dai cosa facciamo andiamolo qui perché è buio sta cominciando a fare no aspetta no andiamo luttiamo le altre cose e poi ce ne andiamo almeno alla cosa dei pompieri e luttiamo le altre cose che mi preoccupa aspetta che tiro su un pochino la gamma avviamo il visore notturno sì muoviti ti odio aspetta sei un miserabile è quasi notte non perdere dai 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 la torcia no è passo spegni la spegna che è così che mi hanno ammazzato l'altra volta oh e dai ma però e questo ce l'abbiamo a fare ma di sicuro non le basi militari io sto passando dietro sparatemi sì guarda che mirano perché la torcia la tiene all'altezza del cuore quindi mirano al torace ok dark io ti sono dietro è strano che c'è la cosa dei pompieri dietro aperta no è sempre aperta con la porticina sicuro io non l'ho mai trovata chiusa io non l'ho mai trovata aperta un'altra bussola com'è? un po' ma vaffanculo va non mi puoi vedere com'è un'altra bussola di nuovo com'è? eeeh pristine perfetto post chi si è fregato la FNX eh colpa che continuate a spostarmi? io no ma chi è questo? ah lì da nanna si sei un miserabile tu e il tuo zaino maledetto è salito qualcuno su? no ah c'è uno zombie davanti agli hangar quindi sembrano chi salita? ma non hai preso la cassetta gialla? perché ho preso quella pristina ho lasciato questa ah ma è rotta la vivi vabbè coprimi eh vabbè coprimi un attimo che la prendo io tocchessini fa la tanalla terrabile a me non mi serve oh lì c'è qualcosa riuscite a prenderlo io non vedo ah l'accetto dei pompi vabbè qui c'è un'altra bussola ah no vabbè l'ho già preso quella nuova usciamo sempre dal retro dal retro dalla porta in cui siamo entrati ok vai sì queste qua si aprono non so forse no no ah mostrano i quanti hangar sono? 8? eh sì io onestamente non avrei voglia di controllarli tutti qui ci sono i colpi per fare per il mossi a vedere 7.62 sì sì prendi qui c'è un'arma c'è un SKS qui c'è qualcosa ah ecco eh chi è che voleva il mino? qui c'è un altro mirino per il M4 eh questo è quello da corto raggio vabbè te lo prendo quale è? vabbè l'ho preso poi te lo fa come si chiama? RV1 PIS PIS qui ce n'è un altro eh l'usa non so quale sia meglio vabbè sicuramente è quella che hai trovato in condizioni migliori è Warn questo no quello che ho trovato è eh molto danigato eh vabbè la torre di controllo la volete controllare? sì chi controlla la torre di controllo? andiamo a controllare la torre di controllo ah però si vide non è non è che non si vide beh vabbè perché è ancora presto però tra poco farà notte buia quindi cosa dobbiamo fare? tra poco tra pochissimo quindi cosa facciamo? andiamo e esco e stacchiamo no io devo arrivare fino ad astrenus pensavo di fare il viaggio insieme salite sopra che ce lo do no qui c'è qualcosa controlla cosa ti proiettili? mia oh vabbè spiegati e ti do il pieco l'M4 cioè il bipode il che? il bipode è quello che volevi tu oh dai mi puoi dare la cosa oppor lo dai a Ravik mi puoi dare la cosa per favore me adesso una catenella già ecco qua mi sta ributtando fuori anche voi nooo ma che hai trovato il coso no io l'avevo prezzo